Ragazzi oggi è un giorno speciale, molto speciale, non tanto speciale per il fatto che tipo andremo a fare quello che avete letto nel titolo Ma più che altro perché finalmente ho messo le lightro, ovvero nessuna intro più cadendo e spaccandosi il metatarsu Bentornati sul canale, ci siamo dentro ragazzi qua su minecraft Oggi appunto come vi avete letto nel titolo andremo a fabbricare il martello di torno nella versione 1.14 di minecraft E quindi prima di cominciare questo video mi raccomando un bel pollice in su Magari se vi va ragazzi, mi raccomando perché è importantissimo, un bel mi piace a questo video Magari potreste commentarmi sotto con scritto il martello O magari che facciamo tipo le motte del martello perché tanto appunto il martello sarà il protagonista di quest'oggi E quindi perché non commentarlo qua sotto Allora adesso vediamo se le ali funzionano, se abbiamo le lightro, se possiamo farlo funzionare senza che mi spacchi le gambe Così posso finalmente, ok funziona, perfetto Abbiamo risolto il problema di non spaccarci le gambe quando ando giù dalla casa durante la intro Allora signori devo trovarmi con un villico molto particolare qui dentro Che mi ha chiamato per una missione molto particolare ovvero andare a fabbricare questo martello di torno Che non ho ben capito appunto ancora come si possa fabbricare Comunque signora Pecora buongiorno Dovrebbe essere qua dentro in teoria C'è un tipo sul letto, un tipo che lo pesta e c'è una gallina, bello Allora Non voglio aver letto Signor generale, che bello rivederla Da quanto tempo Ok ma per fare sto martello di torno come faccio? Cioè devo mettere lo spiedo Ok ha detto che ho tutto dentro la cassa E mi saranno dei minerali di smeraldo con del cuoio di mucca Del cuoio di mucca Sì vabbè della pelle di mucca insomma Non le voglio le vostre Prendetele Fatemi una frittata che c'è sto tipo che Dorme con la testa in mezzo al legno Ma cos'è una termite? Vabbè lasciamo perdere Andiamo nella cassa e vediamoci l'orba che ci serve Abbiamo un piccolo di diamante Evidentemente troppo forte Abbiamo una spada di diamante Evidentemente sbroccata Abbiamo delle mele d'oro Abbiamo una stella del nether Ok Signor pollo e io, io vado Ok mi ha mandato in un posto dove non posso dirlo Perché tipo il video me lo bloccano dopo Va bene Arrivederci Diciamo che non mi serve evidentemente un blocco Quanto un minerale particolare Che si ricava solamente con il 10% di possibilità Che si possa estrarre Quindi speriamo di avere fortuna Non sto avendo fortuna Ok Sono delle specie di diamanti Diamantini di smeraldo Ok è un pochino troppo forte così però Signor pollo Io posso trovare sti Non si trovano Sono degli smeraldi Non ne faccio niente gli smeraldi Vi date quelli Cioè Per favore Cioè il 10% che spawnino Fateli trovare Guarda che roba Guarda Non c'è niente Cioè mi sento una talpa Io voglio fare un video Senza diventare una talpa Invece mi trovo dentro a un buco E mi ho spiegato lì in giro Che non sono una talpa Guarda Cioè guarda che roba Guarda Cioè incredibili Santo c'è Ok questa cosa si fa interessante Ho trovato qualcosa No sono smeraldi Non c'ho questi cosi Andiamo a vedere il cuoio Per le mucche Dove Abbiamo le mucche Ok va bene Perfetto Ok andiamo a prendere la spadina E non c'è il fattore dentro No Ah è l'inf Ok Signor fattore Buongiorno Dite che me lo lascia Mi lascia accoppare qualche mucca Se tipo faccio così Ma devo usare una spada Per forza Vabbè Eh signor Rutenzi O il barbagianni Dovrei venire a coppare qualche mucca Per il cuoio Me lo lascia fare Lo so che non è molto disposto Ma faccia un sacrificio Dai Eh ci metto Facci un attimo Non si preoccupi Signore mucche Signore mucche Mi servite per il mio cuoio Devo prendere il cuoio Andiamo a vedere come fare A fare subito questo martello Ma detto sempre la gallina Prima Perché io mi sono rivolto A una gallina Per scoprire come creare Il martello di Thor Non c'è nessun essere leggendario Se non un pollo Che ti dà indicazioni Che devo trovare Il monte più alto Del Di questo mondo Per appunto Riuscire a trovare dentro L'altare Che mi permetterà Appunto di creare Questo martello fatidico Devo trovare una struttura Almeno A 100 Metri d'altezza Ecco là sopra Ci metterò un'ora Reva là sopra Ma insomma L'importante è provarci Allora se ci trovo Tipo sopra un mulo Che mi dà un'incornata E mi butta di sotto Inveisco malissimo Allora Vediamo di non cadere Beh che abbiamo le light Però Sempre meglio Non rischiare Ok Perfetto C'è anche il nebbione Qua non vedo niente Non cadere giù Ok Che ho le light Ma è meglio non cadere Ok Non cadiamo Non cadiamo Ok Qua Ok Abbiamo trovato l'altare Per fare il martello di Thor Adesso Se non mi sbaglio Per creare questo martello Dobbiamo fare Una cosa del genere Ovvero andare qui in cima E mollare sopra tutti gli item Quindi Abbiamo da prendere la stella del nether Che la buttiamo subito Abbiamo da prendere il cuoio Che lo molliamo subito E abbiamo da mettere gli emerald Ok 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 Sta succedendo qualcosa Eh Non è che esplode tutto eh Forse si Non esplodere per favore Non esplodete Non esplodete Non esplodete No 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 Fatti bravi Datemi solamente il martello Datemi solo il martello No Ok Spero solo di Non mo Che male Che male Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire No Basta Basta fulmini Basta Ok Fatti bravi Per favore Non sono un parafulmine Ti prego No Io sto per rischiare di diventare tipo No Eccolo No Forse è meglio che mi allontano Forse è meglio allontanarsi di qua Forse è meglio di si No 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 Allora Non so dove sia finito Perché è tutto buio Ma tipo abbiamo il martello Quindi vediamo di uscire Di provarlo Spero solo di non incontrare Delle bestie Boni Boni in attimo Ok Ma come esco Ok Ma non so nell'altro villaggio Ok Abbiamo anche cambiato il villaggio Perfetto Beh, almeno è una forma più generale che ci viene tipo a infastidire Allora, la prima abilità che abbiamo è Questa Questo lancia tipo una scossa Forse non sono troppo Ok, però li ho danneggiati entrambi, mi sembra Li ho danneggiati Trambi Però, no Gli dia il martello, stavo perdendolo Che martellate Non ho visto un gran effetto però, eh Cioè, tipo faccio così, non ho visto che facesse chissà cosa Riproviamo No, li danneggio, ok, ok Tutti quanti Ok Ah, ok Ora sì Ok, ok, ok Ok, questa mi piace È bella, 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 carina Sembra un po' le abilità che abbiamo visto tempo fa della terra Che c'era una molto, molto simile Ma adesso abbiamo la prossima, che è la prossima, eh Ah, ok, adesso, raga, faccio un bel po' di fulmini Sempre gli zombie secchi? Ah, sì, raga, intanto, ma te l'abbiamo preso in simpatia Buongiorno Ok, questo mi piace un botto Questa è bella, bella, bella Ok, sono ricaricata Quanto Adesso non so se consumi dei livelli o no Boh Oh Volete un arrosticino di pecore? Nulla di più facile Signore pecore, fatele brave Per favore, non cominciate a fare beh In maniera poco family friendly Avanti Arosticini Arrostitevi, dai, signore pecore Su, non è così una cosa grave Arrostite Dai, arrostite Ok Abbiamo dei superstiti peccora, però E un sacco di carne di peccora Dove possiamo farci anche l'arrosto? Prossima abilità speciale che abbiamo, appunto Il Tanda Jump Quindi io questo Volendo potrei tipo saltare come Thor Tipo lanciandolo Forse Ok Mi sta facendo una cosa stranissima Cosa sto facendo? Aiuto Ok, questo è un problema Ho perso il martello Ok È stranissimo Cioè io posso Muovermi Posso tornare dal nostro amico generale Volendo Comunque abbiamo trovato L'altare Signore altare La prossima volta mi mette in un posto più vicino E non mi spari lontano un chilometro La ringrazio Abbiamo il Whirlwind Storm Gli ha negati Guardate Se sono veloci Gli ha negati Così non gli facciamo niente Ma stiamo scherzando Fa tipo il tornado Se fatemi capire Fa tipo Questa è una figa No vabbè raga Questo è più bello di tutti Scusate No Ok Blaze No 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 Stavo scherzando Stavo scherzando Oh bone Andare via Vai via Ok Questa è una recoil Cioè questa la posso utilizzare ogni volta Ok Qua c'è C'è un Aristotele sei tu Aristotele ti prego Dimmi che sei tu Vi ho trovato Aristotele Se non ci credo C'è vi ho trovato il nostro salmone Aristotele dove sei finito Mi ha scavato Ah ecco i suoi missi salmoni Ok Abbiamo contato una cosa Che Aristotele non è morto È ancora vivo Raga un like per Aristotele Per chi se lo ricorda Comunque ho ancora un'abilità Da provare Che è tipo Questa Questa qui La mountain slayer In teoria dovrebbe tipo Sbragare la montagna Forse si Forse Ok 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 Io voglio il martello Ok grazie Ah praticamente dopo torna indietro Fatemi vedere un attimo la cosa Fatemi vedere un attimo la cosa Che sta cosa è veramente 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 figa Cioè distrugge tutto quello che incontro Fate Cioè ha distrutto tutto Fatemi capire Se adesso lo butto di nuovo Posso fare Posso oltrepassare la parete Con questo batti bistecche Cioè con questo cosa che batte tipo le bistecche Posso tipo Fare un buco in una Montagna Che darebbe la paga alle talpe E questo non sarebbe assolutamente Una cattiva idea No 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 Ma perché Volevo usare la mela Non i blades Volevo usare la mela Volevo usare la mela Volevo usare una mela Non i blades Una mela Ho detto una mela Ovviamente sono odiosi come lo schifo No Oh Vada via Noia che male E si prende la martellata Oh ok morto Perfetto Ok finalmente possiamo usare la nostra abilità Dobbiamo vedere finalmente Se è il next level talpe Oppure no Devo lanciare tipo questo martello Allora Uno Due Tre Cioè abbiamo buccato la montagna Cioè la montagna l'abbiamo Oltrepassata Ed è andato Là in fondo Cioè Damn nigga Devo dire che la mia preferita al momento Comunque è Il lightning Questo qua ragazzi è OP O meglio Scusate Il vortice Anche se Me l'ha fatto un po' diare i blaze Che tipo non sono affetti Perché tipo Se io adesso uso le pecore Esempio Scendiamo un attimo Io uso tipo un sacco di pecore Un sacco Generiamo una quantitativa di Immenso di pecore Tipo così In mezzo all'acqua Un sacco di pecore Le possiamo fare volare Possiamo fare un tifone di pecore Immaginate un tornado Fatto con le pecore Bene Possiamo farlo Un tornado Di pecore Guardate Un meraviglioso tornado vino Pieno di pecoroni Che cadranno E questo è il lieto fine Cioè o meglio Non tanto lieto Però infine Beh sono rimaste vive Perché comunque c'era l'acqua Quindi ho fatto anche volendo Del bene alle pecore Un like per le pecore Se gli diamo anche così Diciamo che L'elettricità con l'acqua Non mi sono molto d'accordo Ma sappiate perdonarvi Una vita futura In cui sarete rosticini Possiamo muoverci Alla velocità della luce Una cosa brutta Che non abbiamo Dando a caduta A meno che non usiamo Il thunder jump Diversamente Possiamo muoverci Come Thor Possiamo utilizzare Appunto Quelle abilità che avete visto Possiamo tornare Dal signor generale Che poi è una gallina A tipo Distruggergli il becco Quello lì Quello che voglio fare Quindi signor generale Le consegno il martello Che non so lei Cosa se ne faccia Ma so per certo Che almeno funziona Allora signori Fatevi svegliere Questa è la vostra abilità Preferita Di questo martello Malatissimo Che posso dire Che è bello bello divertente Se volete provare Vi lascio tutto qua in descrizione E tipo Potrete fare i bug Anche voi Come le talpe Nelle montagne Fare tipo Non so Il tornado con le pecore Che penso che sia una cosa Bella Cioè il tornado con le pecore Ragazzi Ma è la cosa più bella Del mondo Volendo Non vi interessa Questa abilità C'è anche l'abilità speciale Che voglio semplicemente Dare delle gran martellate Con un suono veramente stupendo Sentite Cioè è bello carino Sono così no Cioè che dite Cioè dare Contro anche dei villici Dare delle martellate Del genere Penso che possa essere Abbastanza Soddisfacente Dico bene Dico bene Signor martello E poi è anche bello efficace Tipo per spaccare le facce Signori Mi sono andato sotto nei commenti Io consegno Questo martello Al signor Generale Questo c'è degli spasmi Comunque Noi ci stiamo pagando In un prossimo video Dove non ci sarà questo gallinaccio Per l'amore del cielo Che mi trovo soldi Io vi saluto Qui dall'ex E dal martello di Thor È tutto